Uccisi nella stessa piazza teatro negli ultimi anni di altri omicidi a Guati di Mala, Giuseppe Paolo Antonio, 24 anni, e Francesco Novelli, 38, sono stati colpiti a morte nel primo pomeriggio in piazza della Libertà a Grumo Appula, città di 12.000 abitanti a 20 chilometri da Bari. Entrambi, pluripregiudicati, ritenuti vicini al clanzorno di Toritto, sono caduti sotto nove colpi di una calibro 9 in una vera esecuzione mafiosa. In due, a bordo di un'auto, stando alla prima ricostruzione dei fatti fornita dagli investigatori, sarebbero arrivati in piazza. Uno sarebbe sceso dall'automobile bloccando Paolo Antonio e Novelli all'ingresso della villa comunale, pieno centro della città, e colpendoli uno alla testa, l'altro al torace. La più giovane delle due vittime è morta sul colpo, per l'altra inutili tentativi di rianimazione. Sul luogo del delitto i carabinieri del nucleo investigativo di Bari e della compagnia di Modugno, i PM della procura di Bari, Chiara Giordano e Francesco Cavone per la DDA. Gli investigatori ritengono possibile l'ipotesi del regolamento di Conti. Paolo Antonio era stato coinvolto in passato nel ferimento del 25enne Vincenzo Lella, anche lui di grumo, trovato poi morto nel marzo 2011 in una cava a bitonto finito con dieci colpi di pistola. La piazza dove i due sono stati uccisi è la stessa dove nel marzo 2010 due sicari a bordo di una moto uccisero il 24enne Francesco Toscano e ferirono il padre Vito.